Amici del vaso di Pandora, benvenuti, ben ritrovati. È il caso del momento in Europa, la Germania, un paese che trucca i conti, ma che pretende impone tramite Bruxelles la correttezza e l'austerity agli altri paesi. La correttezza dei conti, ovviamente, quelli che non rispetta lei. Questa è una situazione che sta creando dei problemi. Il mainstream di casa nostra cerca, fa il possibile per minimizzare questa situazione, per non dar vigore e forza all'antieuropeismo strisciante nel paese. Oggi però abbiamo anche una novità, una sorpresa, perché raccogliendo un po' le vostre osservazioni e i vostri suggerimenti, parleremo anche di aspetti positivi e di potenzialità dell'economia italiana e cercheremo di fornire delle analisi sulla possibile soluzione dei problemi, perché capita spesso nei vostri commenti che ci diciate, va bene, la situazione, capiamo i dati, la situazione, ma quali sono le soluzioni. Scorciatoi non ce ne sono, ovviamente ve lo anticipo già, ma di tutto questo parleremo con Gilberto Trombetta, che è nostro in collegamento da Roma come ogni martedì. Ciao Gilberto. Ciao Carlo, ben trovato e ben trovati i nostri ascoltatori, ovviamente. Allora intanto ti vedo qua alle spalle il presepe, avete allestito il presepe. Sì, è col solito una cosa, con la scusa del bambino facciamo il presepe, mi sono dedicato quest'anno con alterni risultati a fare il presepe, che per un po' troverete qua alle mie spalle, dove di solito ci sono altre cose, ma era l'unica superficie adatta per poterlo fare. Ma non vedo simboli che siano al di fuori della cristianità, non vedo simboli satanici, non vedo nulla, cosa sei un tradizionalista? È un presepe più classico possibile, ogni tanto fa comparsa qualche dinosauro, visto che il piccolo a quell'età, a sei anni, ha una particolare fisima per i dinosauri, ogni tanto li ritrovo nel presepe, ma è l'unico elemento non proprio canonico che ogni tanto spunta nel presepe. Veniamo Gilberto. Senti, la Germania, non lo possono ammettere, ma è un problema. Direi che vale la pena anche fare delle valutazioni sul redazionale che è comparso i giorni scorsi sul Corriere della Sera di Mario Monti, che sta criticando quello che sta facendo l'Unione Europea. Sì, guarda, parto subito dalla considerazione finale. L'editoriale di Monti è un ideoriale ipocrita, per almeno un paio di motivi piuttosto grandi e da tenere in considerazione. Il primo è che, come noi abbiamo dedicato una puntata, partendo dalla notizia dei conti truccati della Germania, raccontando che però non è una novità. Abbiamo raccontato il ruolo di KFV, delle Landesbanken e di tante altre cose, insomma, che la Germania ha fatto fuori dai canoni delle regole europee, che a noi ci chiede di rispettare alla lettera. Ma queste sono cose che gli ha detti ai lavori, quindi soprattutto i politici sanno perfettamente, quindi far finta che adesso si scopre che la perfetta Germania non è poi così perfetta è ipocrita, perché la Germania ha sempre aggirato o violato le regole europee, comprese alcuni parametri, tipo quello della bilancia dei pagamenti con l'estero, ovviamente, sul plus mostre. Ed è ipocrita perché davanti a una critica formale, too little too late, troppo poco e troppo tardi, direbbero gli inglesi, alla struttura dell'Unione Europea, perché tra l'altro, dice Monti, oggi non va bene, quelle regole andavano bene ieri, ma oggi l'Europa è cambiata, il mondo è cambiato, non vanno più bene oggi, ovviamente non andavano bene neanche ieri, soprattutto è sorprendente, per non usare altre parole, che uno dei massimi autori, per non dire carnefici, delle imposizioni dell'Unione Europea, delle riforme lacrime e sangue, d'attore il governo Monti si chiama governo Monti perché lui era il primo ministro, in quella critica di facciata all'Unione Europea, non faccia neanche un minuscolo mea culpa per quello che ha imposto agli italiani, appunto con quella che è passata la storia come cura a Monti. Beh, io credo che lui ritenga che si abbia agito in maniera perfetta e corretta, conosciamo un po' anche l'egocentrismo, insomma, in un certo senso di queste figure. Senti Gilberto, io vorrei porre l'attenzione proprio sull'atteggiamento che hanno in media, no? Perché si sente fra le righe, si percepisce che c'è più di qualche giornalista che vorrebbe cantargliele anche, no? Per un rigurgito di patriottismo forse, ma non lo possono fare, non se lo possono permettere, perché come dicevo prima, non so se sei d'accordo, questo potrebbe dare vigore e forza comunque ai sentimenti anti-europeisti, no? Che sono comunque striscianti e presenti nel paese, no? Quindi non lo possono fare. Per questo e anche per altri motivi, innanzitutto smentirebbero 30-40 anni di propaganda autorazzista e anti-italiana. Hanno sempre detto facciamo come la Germania, la virtuosa Germania, noi siamo corrotti, evasori, pigri e tutte le peggiori nefandezze che possono venire in mente, mentre i tedeschi sono affidabili, precisi, spendono poco, l'economia è in crescita, la locomotiva d'Europa. Ovviamente parlo di propaganda, ma sarebbe più corretto parlare di fandoni e di balle raccontate sui pregi della Germania e sui difetti dell'Italia, anzi poi peggio ancora perché si li facevano passare per pregi dei tedeschi come popolazione antropologicamente e socialmente superiore e difetti degli italiani che sono evidentemente antropologicamente e forse anche geneticamente inferiori. E poi come dicevi ovviamente picchiare troppo forte su questo tasto, c'è la Germania che rompe tanto le scatole, sempre per parlare in maniera politicamente corretta, agli altri, poi la prima che in realtà aggira alle regole, se ne frega, ma noi abbiamo parlato ovviamente dei conti tedeschi, Carlo, ma abbiamo anche accennato a tantissimi altri scandali accaduti in Germania negli ultimi decenni che se fossero successi in Italia, apriti cielo. Certo, quindi diciamo che i tedeschi truccano correttamente i conti, insomma, perché loro sono bravi, sono corretti, li truccano in maniera corretta. Esattamente. Guarda, secondo me il messaggio tra le righe che stanno cercando di far passare è che va bene, è sbagliato truccare i conti, ma i tedeschi lo possono fare e noi italiani no, ecco, in fondo è quello il pensiero. I tedeschi lo possono fare perché sono corretti e invece noi, senti, tra l'altro in una delle ultime interviste dei nostri appuntamenti del martedì dove abbiamo parlato proprio di questo tema, tu dici legittimamente lo fanno, diciamo legittimamente nell'ottica degli interessi nazionali. Mettono gli interessi nazionali davanti al costrutto europeo, come è giusto che venga fatto, ripeto, quello che dasse come veramente fastidio, a parte che non si sta, io questo l'ho sempre detto dell'Italia, l'Italia potrebbe stare nell'Unione Europea, tutelare molto meglio i propri interessi di quanto non fa o non abbia fatto recentemente, è ovvio che certe cose comunque rimanendo dentro l'Unione Europea e l'Euro non le potremmo fare, ma violando i trattati a destra e manca sicuramente avremmo più libertà di perseguire i nostri interessi. Certo dà fastidio che uno Stato che sta sempre là col ditino puntato a dire attenzione questo parametro, lo 0,1% in più di deficit, poi ripeto butta fuori bilancio centinaia di miliardi di euro e noi abbiamo voluto privatizzare più di tutti e loro hanno molta più industria pubblica e intervento dello Stato nell'economia di quanto noi non ci siamo mai permessi di fare, almeno da quando siamo in Unione Europea. Quindi è questa doppia morale che urta particolarmente i nervi, dopodiché è ovvio che violare o aggirare dei trattati che si è sottoscritto non è particolarmente corretto, viene prima l'interesse nazionale, io di questo ne sono convinto, però ripeto se devi stare in un consesso sovranazionale e internazionale come l'Unione Europea per contestare tutte le decisioni che ti chiedono o ti vogliono imporre o per violare i trattati, abbi pazienza, questa logica vorrebbe che per prima dire è stato un piacere arrivederci in bocca al lupo per tutto. Senti Gilberto, Germania trucca i conti, però come si diceva all'inizio pretende tramite Bruxelles la correttezza dei conti e soprattutto l'austerity agli altri paesi. Questo potrebbe alla fine creare un cortocircuito all'interno dell'Unione Europea magari fatale? Potrebbe, ovviamente ce lo auspichiamo tutti, io continuo a essere molto scettico sul riporre tutte le nostre speranze di salvezza, tra virgolette, perdonatemi il termine, sul fatto che qualcuno stacchi la spina prima di noi, cioè che ci salvi ancora una volta qualcun altro perché noi non abbiamo il coraggio di fare quello che ci converrebbe fare. Sì, chiaro. Quindi in ogni caso saranno le dinamiche non tanto europee, vuoi dire, quanto proprio geopolitiche internazionali eventualmente, a comportare un collasso. Io spero sempre che l'Italia ritorni sulla retta via, sia i cittadini italiani e quindi di conseguenza anche la classe politica, che con molta serenità si dovrebbero sedere al tavolo con gli altri paesi, con gli stati membri, dicendo ci abbiamo provato, non ha funzionato, non stiamo a cercare colpe, responsabilità, quello che è stato è stato, smontiamolo insieme questo progetto infernale. Poi ovviamente se ti dicono di no, saluti e te ne vai, ma l'ideale come ho sempre detto è una distruzione concordata dell'Unione Europea e quindi dell'Eurozona perché converrebbe a tutti, ma se ti dicono di no, tu ripeto, devi sopravvivere, devi pensare ai tuoi interessi, all'inizio violi tutti i trattati che devi violare per metterti al sicuro dalle rappresaglie economiche e finanziarie che qualcuno potrebbe provare a farti e poi saluti e te ne vai. Per fare questo però lo deve volere la popolazione italiana e conseguentemente la poi sarei in grado di produrre una classe politica che almeno in parte seguirà l'input che proviene dai cittadini. Sì, facendo leva magari su una propria consapevolezza dei punti di forza che ha questo paese e quindi introduciamo oggi un elemento di novità raccogliendo, come dicevo all'inizio, anche le indicazioni, i suggerimenti dei nostri ascoltatori dove ovviamente tutte le analisi che fornisci settimanalmente con i numeri eccetera, d'altra parte dici se la situazione è negativa mica posso dire che le cose vanno bene, quindi è un atto sempre di coerenza e di realismo da parte tua nei nostri appuntamenti appunto del martedì. Senti, ecco, quindi i punti di forza comunque, ci sono dei punti di forza che sono veramente notevoli e dai quali noi dovremmo partire, ne vogliamo parlare Gilberto? Sì, guarda, rapidamente però è una cosa che non abbiamo mai fatto, io mi sono sempre limitato a dire, però racchiude un mondo questa frase, nonostante tutto, cioè nonostante trent'anni di declino oggettivo, declino non vuol dire che l'Italia è un paese fallito già del terzo mondo, anche questo, io insomma di lavoro scrivo, parlo, comunico, posso sbagliare a volte le parole, ci mancherebbe e però quando scelgo dei termini hanno un significato preciso, io non ho mai raccontato di un'Italia sull'orlo del collasso, di un'Italia che sta per fallire, di un'Italia che è diventato il paese più arretrato del mondo, però i numeri degli ultimi decenni ci raccontano un lento ma progressivo declino in termini di pil reale, di produttività, di salari, questo dicono i numeri, però l'Italia partiva da un livello così avanzato, ricordiamo che all'inizio degli anni 90 eravamo la quarta potenza mondiale, oggi siamo diventata l'ottava, quindi è ovvio che è un segno di declino, però appunto se l'ottava potenza mondiale, gli stati nel mondo sono sui 220-230, tu sei l'ottavo, quindi l'Italia è ancora un grandissimo paese, l'Italia è la seconda potenza manifatturiera d'Europa, questo proprio è cosa vuol dire. Alberto vorrei dire, siamo in declino, ma qualcuno potrebbe dire, siamo comunque in ottava, però il trend e la tendenza, stante così, se stanno così le cose, di ulteriori perdite di posizione, perché stante così le cose sono previste i prossimi anni di perderne parecchie altre di posizioni. Ragazzi mi è fuori ombra di dubbio, se i poveri assoluti sono triplicati, i precati sono raddoppiati, il PIL è crollato, il PIL reale, pro capite e quindi anche generale, la produttività, perché ammazziamo la domanda interna, c'è una progressiva deindustrializzazione o delocalizzazione, i cui effetti poi non sono tanti diversi, è ovvio che se si prosegue su quella strada, non nel giro di 5 mesi, nel giro di ancora tanti anni, l'Italia tornerà a essere un paese del terzo mondo, ma ancora ce ne manca tanta di strada per arrivare a quello, ma il sentiero tracciato è clamorosamente quello. Detto questo, però l'Italia resta ancora uno dei più grandi paesi al mondo e secondo me lo è ancora di più, perché noi negli ultimi 30 anni abbiamo partecipato a questa competizione globale, questa maratona economica, legandosi sul nostro corpo pesi da decine e decine di chili, con l'handicap come direbbero gli scommettitori, eppure siamo ancora bene o male là, ma non siamo là solo, ovviamente nel settore agroalimentare sappiamo che è un'eccellenza italiana, però uno li vuole vedere, sono i classici settori a basso valore aggiunto, non tecnologici, ma guardate che non è solo questo, io adesso sarò molto veloce, però per fare una carrellata, perché i primati e le eccellenze italiane, anche in settori molto complessi e tecnologici, sono tantissime. Innanzitutto, ovviamente uno dei mantra degli ultimi decenni è la riduzione delle emissioni di CO2, ma se noi come diciamo sempre allargassimo il discorso a un discorso ambientale, cioè a ridurre l'impatto dell'uomo sull'ambiente, non sul clima che viaggia per fatti suoi o sulle emissioni di CO2, cosa sulla quale non credo che qualcuno possa dire, io voglio un impatto maggiore e peggiore dell'essere umano sull'ambiente, l'Italia già oggi è il paese con il più alto per esempio il riciclo totale dei rifiuti speciali e urbani prodotti di tutta Europa, abbiamo una media dell'83,4%, la media europea del 53%, la Germania si ferma al 70%, la Francia al 64%, siamo un paese ambientalmente virtuoso, non climaticamente o a livello di CO2, nel suo insieme, inquinamento dell'ambiente, non solo, anche nel campo dell'efficienza dell'impiego delle risorse, quindi produci come gli altri ma con un impatto minore, l'Italia ha un punteggio di 274 su 300 su questa scala che misura l'efficienza rispetto all'impatto ambientale ed è prima in Europa, la media europea è di 147 punti, tu sei 274, vuol dire che impieghi meglio le materie prime, sprecandone di meno, l'acqua, l'energia e l'intensità delle emissioni, quindi poi quando ti parlano di agenda verde e transizione dovresti rispondere agli altri, noi il nostro l'abbiamo già fatto, non è un problema che ci riguarda, possiamo migliorare ancora, ma prima devono migliorare altri paesi, soprattutto extraeuropei, l'Italia ha i primi posti al mondo per la produzione di 10.000 cose, i primi posti al mondo, ovviamente la moda, naturalmente, piastrelle ceramiche e tech, macchine per l'imballaggio, occhiali da sole, yacht a motore, paste alimentari, calzature, creme, bini, spumanti, rubenetteria, mobili, artigianato, lavoro del ferro, dell'acciaio, dell'alluminio, le macchine per imbottigliare, il caffetto refatto, la robotica, la gioieglieria, gli ingranaggi e le pompe ad aria e potrei andare avanti ancora a lungo, entrando nel dettaglio per esempio della robotica e dell'automazione, quindi un settore all'avanguardia, ad alto valore aggiunto e ad alta tecnologia, in Italia ci sono quasi 700 aziende che lavorano nel settore a fronte delle 628 e delle 540 rispettivamente francese e tedesche, l'Italia è numero uno nelle installazioni del settore automobilistico per quanto riguarda la robotica, ovviamente vendute soprattutto ormai purtroppo all'estero, visto che non abbiamo più la nostra industria automobilistica, il ricorso a soluzioni di automazione robotica, anche nelle piccole e medie imprese, anche e soprattutto, questo anche per smontare che il problema è che non hai fabbriche gigantesche e le piccole e medie imprese non fanno innovazione, i numeri ci raccontano altro, va bene? Non solo, le imprese italiane sono leader mondiali in settori tra cui la progettazione di elicotteri, i sistemi satellitari, i motori aeronautici, i sistemi di navigazione, ancora una volta settori ad alto valore aggiunto e ad alta tecnologia, nel settore aerospaziale in generale siamo i numeri uno al mondo, non solo, l'export dell'industria meccanica di precisione non solo è in costante crescita e è tra i numeri più alti al mondo nel 2022, più 11% rispetto all'anno precedente per un totale di valore di export di quasi 35 miliardi di Euro, numeri che fanno invidia a paesi come Stati Uniti, Germania o Giappone sostanzialmente o con cui puoi competere, abbiamo dei numeri impressionanti migliori al mondo per quanto riguarda la canteristica navale, la nautica, un altro settore ad alto valore aggiunto e ad alta tecnologia, siamo primi al mondo per saldo della bilancia commerciale 3,1 miliardi di Euro, ma siamo primi al mondo, la Germania si ferma a 1,3 miliardi, Paesi Bassi 1,5, l'export di apparecchi e dispositivi professionali per le bevande per la cottura di alimenti a livello professionale, anche qua siamo i primi al mondo, anche per quanto riguarda le apparecchiature a raggi ultravioletti e un fraressi per utilizzo medico chirurgico, un altro settore ad alta complessità, ad alto valore aggiunto e poi ci sono tutte le cose che abbiamo detto, ovviamente il tessere, la moda, l'artigianato, il design in cui ancora una volta siamo i numeri 1 al mondo, io ci tengo a dirlo questo, la produzione di vino, siamo i più grandi produttori di vino al mondo, la Francia magari si vende meglio di noi, ma i più grandi produttori siamo noi, questo ci tengo a dirlo, anche perché non si campa solo di produzioni ad alto valore aggiunto, quindi noi abbiamo una capacità incredibile nonostante corriamo con le mani legate dietro la schiena e una gamba segata da trent'anni, pensate cosa potremmo fare se ci liberassimo di questi vincoli? Sì, ecco, allora tu hai dato proprio in maniera dettagliata una lista di punti di forza interminabili e io dico in cui l'Italia primeggia nonostante tutto al mondo e nonostante, a questo punto mi viene da dirlo per converso, nonostante una classe politica da decenni in par condizio di centrodestra, centrosinistra, centrodicentro, possiamo scomodare il termine di inetti? È eccessivo? Inetti, serbi e traditori, inetti, serbi e traditori, non per forza tutte e tre le cose insieme, però sicuramente le figure che maggiori speccano nella politica tiana sono sicuramente incompetenti e netti, sicuramente qualcuno è anche un pavido servo perché dice sempre sì all'Unione Europea, alla Germania, agli Stati Uniti, a chi volete voi, a tutti tranne agli interessi nazionali e anche qualche venduto perché c'è il fenomeno delle porte gireoli, quindi se qualcuno si comporta bene nei confronti degli interessi di una multa nazionale o di uno Stato che non è quello italiano, Germania, Francia, Stati Uniti, poi finita la carriera ovviamente viene offerto un posto di lavoro altamente remunerato in aziende o settori di quegli altri paesi che hanno servito molto meglio dell'Italia, questa è la realtà. Ecco, e io direi, ricorderei, ogni tanto lo ricordo, che il manifesto di tutto questo direi che si può sintetizzare nel libro, anzi nel titolo del libro di Enrico Letta, Morire per Maastricht, perché direi che quello è il manifesto direi, no? Morire per Maastricht io aggiungerei, non sempre, ma molto spesso, su ordine di Washington, perché ripeto, il vincolo esterno che subisce l'Italia non è di un unico tipo, non è solo quello unionista a guida franco-tedesca, in Italia tendenzialmente comandano quasi tutti tranne gli italiani, sicuramente il primo vincolo esterno che abbiamo noi, avendo perso la seconda guerra mondiale, ma spero che quasi a un secolo di distanza ce ne potremmo tutti fare una ragione, è quello americano che ha le basi sul nostro territorio, l'Unione Europea è nato come un progetto americano, negli omicidi di Moro e Mattei, oltre all'Inghilterra ci sta lo zampino documenti desecretati alla mano, quindi non è un'opinione strana che cosa stai dicendo, documenti desecretati americani, inglesi, alla mano, nei fatti più gravi e diversivi della storia italiana dopo la seconda guerra mondiale, caso strano ci stanno sempre di mezzo gli angolo americani, una volta gli americani, una volta gli inglesi, una volta tutti e due, ricordo Gladio, che era un'operazione eversiva a marchio CIA, ma potrebbe andare avanti a lungo, quindi l'Italia per tornare a essere un paese in cui valga la pena vivere e che può affrontare veramente un nuovo boom economico, si deve liberare di tutti i vincoli esterni, che non vuol dire, ed è in mala fede chi lo dice, dichiarare la guerra agli Stati Uniti, dichiarare la guerra alla Germania o alla Francia, semplicemente stare con la schiena dritta e pretendere che si venga trattati da paesi sovrani alla pari. Perché il sovranismo è una condizione interiore, prima di tutto. Esattamente. Ecco, tra l'altro, ecco Gilberto, se tu vuoi già venire al punto, perché un altro dei suggerimenti, diciamo, delle osservazioni, dei suggerimenti che ci danno i nostri ascoltatori è dire, sì, benissimo, ecco, le analisi queste sono, abbiamo visto oggi in particolare ci siamo concentrati sugli aspetti positivi, i punti di forza, dicono, però, quali sono le soluzioni? Allora, innanzitutto io ringrazio gli ascoltatori che ripongono così tanta grande fiducia in noi da chiedere a noi le soluzioni. Allora, le soluzioni economiche, che è quello di cui mi occupo io, la dico semplice, ma ovviamente se noi spieghiamo, se cerchiamo sempre di argomentare le nostre analisi col supporto dei dati e dei numeri, se no uno può dire qualsiasi cosa. Se diciamo che la causa è la colpa dell'industrializzazione, delle riforme regressive del mercato del lavoro, del taglio della spesa pubblica, devi fare l'esatto contrario, devi rifavorire un'industrializzazione del Paese, devi rendere il mercato del lavoro più tutelato, cioè più rigido, devi aumentare la domanda interna, quindi aumentare l'occupazione, l'occupazione di qualità e i salari e devi aumentare la spesa pubblica, perché noi la tagliamo da quasi 30 anni e chi mi dice, ma guarda la spesa pubblica rispetto al PIL, amici miei, io vi voglio bene, innanzitutto andatevi a vedere quant'è la spesa media rispetto al PIL degli altri Paesi e mi permetto di dire che se si scorporasse la spesa per interessi, che arricchisce solo e soprattutto i ricchi e la finanza, dalla spesa pubblica in percentuale al PIL, stiamo perfettamente in media con tutti gli altri Paesi sviluppati, anzi spesso di molti Paesi che ci fanno la morale, stiamo sotto. Certo. Mentre da un punto di vista politico, io dico, siccome il problema è politico, le scelte che ci hanno portato in questa... Ecco, punto, stanno arrivando, ok, le cose, quindi la domanda successiva ovviamente la dico a nome dei nostri ascoltatori, dicono, ok, questa è l'anamnesi, questa è la cosa, come si fa a metterla in pratica? Allora, ci sono scelte, bisogna dividere molto qua, anche qua brevemente, ma per non semplificare troppo, ci sono scelte personali, legittime, ma personali, quindi soluzioni personali e soluzioni collettive. Le soluzioni personali sono per chi vuole, lo ritiene opportuno e se lo può permettere, abbandonare questo Paese e dire, sentite, bocca al bibrione, io vedo l'iceberg che arriva, si salvi chi può, oppure rimanere nel Paese ma ritirarsi dalla società, mi faccio una casa in montagna, mi faccio una casa in campagna, autonoma, mi stacco da tutto e in bocca al lupo a tutto il resto. Queste sono scelte legittime, ma che risolvono il problema della singola persona. Singolarmente. Che ripeto, è legittimo, nessuno deve essere votato al martirio, alla lotta per l'interesse comune. Io ho un'ottica diversa, ma non perché sono buono, non ci dormo la notte, so cos'era questo Paese e cosa può tornare ad essere e ha un problema politico, per definizione la soluzione è politica, ma la politica con la P maiuscola, perché non credo in un auspico alle rivoluzioni e ai colpi di Stato. Il colpo di Stato è una cosa che mi mette il terrore, oltre a ritenerla eversiva. La rivoluzione in Italia non ce l'abbiamo mai avuta, non ci appartiene, con tutte anche, perché poi una rivoluzione diventa in parte anche una guerra civile, quindi potendola eviterei. La scelta politica però è complessa, è difficile, richiede tempo e il risultato non è scontato. Ma io non vedo soluzioni a parte la strada politica. Strada politica che cosa vuol dire? Io non credo, ma questa è una mia scelta, può essere non condivisibile ai partiti attualmente presenti in Parlamento. Non vedo questa grandissima differenza tra centrodestra, centrosinistra e 5 Stelle, che sono tutti stati alternativamente al governo negli ultimi 30 anni. Qualcuno ha fatto un po' peggio, qualcuno un po' meglio, ma le differenze sono veramente sottili. Non vedo partiti sovranisti, costituzionalmente sovranisti, post-keinesiani, socialisti, chiamateli come vi pare a voi, in Parlamento. Quindi secondo me l'esigenza che ha il popolo italiano è di impegnarsi in prima persona in politica e quando non vuole o non può aiutare la crescita di quelle realtà che si propongono in maniera realmente differente rispetto a quelle presenti in Parlamento. E qua vado a chiudere dal mio punto di vista, che è un'opinione, può non essere condivisibile, ma sono in grado di argomentarla, le nuove realtà non possono essere di tipo personalistico perché è la sconfitta esemplare della politica, del metodo politico. Si vota un partito perché ha delle idee che si condividono, non perché è il frontman che parla bene e che ci piace, anche perché se poi quello fa casino o cambia idea hai ammazzato tutto il progetto politico, soprattutto perché un progetto personalistico è per forza di cose internamente scarsamente democratico e io credo nella democrazia in Italia, nel Parlamento, ma anche nei singoli partiti, quindi a me non piacciono, non convincono i partiti personalistici e scarsamente democratici, non credo che la soluzione possa arrivare da persone che stanno in politica da 30 anni ma nella politica parlamentare, perché non mi sembra verosimile, chi ha fatto per decenni parte più o meno dei problemi, dubito che si possa oggi porre come risolutore, ho più l'impressione di un riciclo, di un provare a riciclarsi o a riprendere un treno che è stato perso negli ultimi anni e quindi io credo nell'impegno collettivo delle singole persone. Questa è la soluzione che mi sento di dire e capisco che non è la bacchetta magica, capisco che non risolvi i problemi nel giro di due mesi, ma io ancora oggi sto aspettando qualcuno che mi racconti quale possa essere una soluzione che metti in campo e che funzioni e che risolve i problemi dell'Italia, non dico nel giro di pochi giorni o settimane, ma anche di uno o due anni. Sì, chiarissimo, guarda, hai espresso concetti chiarissimi, quindi diciamo la bacchetta magica non c'è, è un percorso che alla fine bisogna fare collettivamente, io ribadisco il concetto partendo sentendo dentro di noi, ognuno di noi, il proprio il senso della sovranità, cioè ognuno deve sentirsi dentro sovrano, se si sente al traino di qualcun altro, di qualche altro paese, di sicuro questo non può portare a nessun tipo di cambiamento. Dimmi, dici Gilberto. Mi permetto di aggiungere Carlo, di sentirci collettivamente sovrani, perché uno dei più grandi problemi, lo abbiamo accennato all'ultima puntata quando abbiamo parlato del rapporto del Censis, che c'era una frase che a me aveva colpito, purtroppo per una questione culturale e sociale imposta dall'alto è voluta, perché un popolo che anziché sentirsi popolo o collettività si sente singolo individuo, è più facilmente controllabile, non ha gli strumenti per reagire alle cose nefaste che gli vengono fatte, noi dobbiamo riscoprire il piacere di sentirci una collettività, di tornarci a sentire un popolo, anzi di tornarci a sentire un popolo più di quanto non ci siamo mai sentiti, anche perché storicamente e culturalmente poche popolazioni al mondo hanno una storia unitaria e comune e così lunga come la hanno gli italiani. Sì, è chiaro, con delle potenzialità di paese e di popolazione di cui siamo consapevoli e il ruolo storico che potrebbe giocare l'Italia, soprattutto in questa fase storica, grazie anche alla posizione, diciamo, proprio a livello di carta geografica, diciamo, che è una posizione veramente strategica. Caro Gilberto, io direi che possiamo lasciare alla prossima settimana, perché mi sembra che la disamina possiamo considerarla completa oggi per gli elementi, i temi che abbiamo toccato, direi che lasciamo alla prossima settimana il rapporto della Svimez, che è l'equivalente per il centro-sud e specificamente per il mezzogiorno dell'Italia, è un po' l'equivalente della Censis che abbiamo analizzato la scorsa settimana, il rapport che è la fotografia, abbiamo fatto la fotografia del paese, della società italiana, grazie al rapport del Censis che esce ogni anno a fine novembre. Quindi io direi, tra gli altri argomenti, poi che ci saranno i prossimi giorni, di dedicare il rapport della Svimez, quindi sul mezzogiorno, alla prossima puntata. Assolutamente, legandomi a quello che abbiamo detto oggi, mi permetto di dire che una delle chiavi di rinascita di questo paese sta proprio nello sviluppo del Sud, una delle, non l'unica. E allora, diciamo, idealmente ci allacciamo già a quello che sarà l'appuntamento, uno dei temi che tratteremo la prossima settimana, che sarà l'ultimo appuntamento prima di Natale, ma poi noi ci vediamo anche la settimana successiva. Grazie, siamo in chiusura, grazie Gilberto, grazie Gilberto Trombetta. Grazie a te Carlo e grazie ai nostri ascoltatori. Grazie, grazie da parte mia a tutti voi amici ascoltatori. Grazie a te Carlo e grazie a tutti.